Ben trovati a questo nuovo appuntamento con una finestra su nostro format, lo ricordiamo ogni volta che Venonda sia nel Lazio sul canale 87 sia in Umbria sul canale 13 del digitale terrestre, questa volta una finestra la apriamo sull'agricoltura e lo facciamo con Franco Verrascina che è il presidente di Copagri, ben trovato. Grazie e saluto i telespettatori. Copagri è un'organizzazione professionale agricola a vocazione generale che ha una sede nazionale ben 18 regionali senza contare le quasi 80 sedi provinciali, gli associati sono se non sbaglio più di 650 mila, vorrei chiederle innanzitutto che cosa vuol dire essere presidente di questa importante realtà, quali sono gli aspetti principali di cui lei si occupa nel concreto nel ricoprire questa carica? Mi permetta prima di aggiornare il dato, nel senso che è con orgoglio che posso dire che oggi siamo presenti in tutte le regioni, nel senso che nel 2019 abbiamo inaugurato la sede del Trentino Alto Adige e la sede del Val d'Aosta, erano le due regioni che ci mancavano e abbiamo una presenza che va bene oltre le 80 province, siamo presenti nella quasi totalità delle province e la cosa più importante è che abbiamo tantissime sedi comunali che ci permettono di avere il confronto diretto con i produttori a noi associati. da questi numeri si evince il ruolo del presidente nazionale che insieme ai presidenti regionali, insieme ai presidenti provinciali, insieme ai tanti tecnici che girano intorno all'orbita della nostra confederazione, che voglio ricordare è una delle quattro confederazioni riconosciute, quotidianamente hanno rapporti con gli associati, io dico sempre, forse la identifico come un'organizzazione in jeans, che siamo a disposizione di tutti ed è quella la nostra mission, è quello il nostro lavoro e lo facciamo con tanto piacere e con tanto amore. Oltre a questo poi è chiaro cosa deve fare un presidente nazionale? In primis appunto confrontarsi, interagire con i produttori, dopo ci sono i tavoli dove si portano le esigenze, le richieste, le necessità di questi produttori e sono i tavoli istituzionali, sia essi a livello europeo, per quello che rappresenta l'Europa per l'agricoltura, sia a livello nazionale e non solo il Ministero dell'Agricoltura, nel senso che la Copagri non è chiamata solo ai tavoli di settore, la Copagri essendo una confederazione è chiamata a tutti i tavoli dove si discute della situazione economica e delle questioni economiche del nostro Paese, quindi a livello di tutti i ministeri, agricoltura, lavoro, interno e sviluppo e mezzogiorno, quindi è la dimostrazione, ma anche abbiamo fatto riunioni nei mesi scorsi, facciamo riunioni con la Presidenza del Consiglio, con il Presidente del Consiglio per affrontare tutte le tematiche relative alle questioni economiche e non solo del governo, quindi è un lavoro intenso, è un lavoro che in certo senso è anche pesante, però l'orgoglio di essere seduto a quei tavoli e di poter dire io rappresento questi miei associati e le loro esigenze, le loro istanze, ci fa andare avanti e aumenta le nostre forze. Sul sito ufficiale di Copagri si legge che ad essa aderiscono strutture economiche, associative e di servizio che sono impegnate nei diversi comparti, inoltre in passato sono stati dei particolari strumenti nell'ambito dell'assistenza tecnica e anche della divulgazione scientifica della formazione, giusto per fare qualche esempio. Le chiedo, in base anche alla sua esperienza, sotto quale profilo, sotto quale punto di vista ritiene che Copagri sappia distinguersi maggiormente tra tutte queste attività, questi servizi? Copagri si distingue soprattutto per il fatto che è sul pezzo, ed è sul pezzo andando in mezzo agli agricoltori. Quando si va in mezzo agli agricoltori si vedono quali sono le cose da fare, ecco perché noi all'interno della nostra struttura abbiamo degli associati che sono associati che vengono dai vari settori produttivi e quando si viene dai vari settori produttivi generalmente si fanno anche sistemi associativi, quindi abbiamo ad esempio associazioni che con i loro produttori aderiscono alla nostra organizzazione nel settore olivicolo, nel settore rottofrutticolo, nel settore cerealicolo, nel settore vitivinicolo, nel settore della carne, nel settore del latte, lavoriamo sul versante del biologico, degli agriturismi e chi più ne ha più ne metta. Poi abbiamo anche tutto quello che serve per aiutare i produttori a divincolarsi da una burocrazia che è asfissiante e quindi a dargli una mano, è quello che gli serve perché un'azienda fa il lavoro per produrre e quindi va dall'azienda oppure deve diventare un consulente lui stesso e quindi su questo noi lavoriamo. Abbiamo dei tecnici che sul territorio si confrontano e quindi fanno i progetti per le aziende, abbiamo 136 centri di assistenza agricola sparsi in tutta Italia per portare avanti in primis tutta la partita che riguarda la PAC e quindi il pilastro 1 e il pilastro 2 per le domande che si fanno e che quindi noi presentiamo come CAF Agri avendo una struttura a livello nazionale e 136 sportelli per quanto riguarda le regioni dove voi poi trasmettetene, abbiamo 5 nel Lazio e una in Umbria. Ascolti, pensando all'intero settore della nostra agricoltura ci sono dei temi indubbiamente molto caldi, i problemi generati dalla cimice asiatica ad esempio oltre anche alla crisi dei prezzi hanno indotto Copagri a partecipare alla manifestazione che si è svolta a Ferrara e che è stata ribattezzata, io mi immobilito, che cosa è opportuno sottolineare secondo lei rispetto a questa iniziativa che è andata in scena? Si, premetto che più che indurre la Copagri siamo stati tra gli organizzatori insieme alle altre sigle che convocano Agri Insieme, di cui poi io sono anche il coordinatore, vale a dire CIA, Confagricoltura, Copagri e tutto il sistema cooperativo. Abbiamo racconto questo grido d'allarme che ci veniva da quel territorio, che ci veniva in particolare dall'Emilia Romagna, che era legato agli eventi atmosferici che hanno creato problemi non di poco conto, ma che era legato a un discorso di prezzi, si produce in perdita e soprattutto all'attacco della cimice, della cosiddetta cimice asiatica, sembra che tutto ciò che è asiatico in questo momento diventa un qualcosa che si… e quindi siamo scesi in piazza, una grande manifestazione, tenendo presente che stavamo a Ferrara, c'erano 5 mila produttori che sono venuti in piazza, non per lamentarsi, non per chiedere aiuto, ma per chiedere interventi. Vedete, quando parliamo di cimice asiatica, parliamo di un patogeno che ha riguardato in particolare la regione Emilia Romagna, ma non solo, perché sono interessate anche le regioni limitrofe, parlo del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, del Veneto, del Friuli, Venezia Giulia. Quindi c'è questo attacco che si è verificato che se andiamo in Emilia Romagna ha causato danni che sono eccezionali, di eccezionale portata, praticamente danni solo in Emilia Romagna, di 600 milioni di Euro, che ha interessato 50 mila, che sta interessando 50 mila aziende e che praticamente ha portato queste aziende a una situazione che non riescono più a reggere, nel senso sta saltando un sistema e sta saltando un settore produttivo che vale tantissimo per l'economia, di quelle realtà, ma per l'economia perché sta colpendo la frutticoltura, una cultura che porta reddito alle aziende, che fa economia nel nostro Paese. Allora con quella manifestazione noi abbiamo detto non vogliamo aiuti, vogliamo interventi per dare speranza, per far continuare a lavorare questi produttori, altrimenti se non ci sono gli interventi giusti, il rischio è che si va verso l'estirpazione totale delle piante, con un danno incalcolabile. Devo dare atto alla Ministra dell'Agricoltura che con il Governo si sono mossi e hanno lavorato per dare, hanno stanziato 80 milioni di euro per il prossimo triennio. Lo apprezziamo, non c'è niente da dire su questo, se non che sono fondi praticamente insufficienti. Di conseguenza bisogna... Sì, perché se andiamo 80 milioni in tre anni e oggi solo in Emilia Romagna parliamo di oltre 600 milioni di danni, ci rendiamo conto che da solo l'agricoltore, il produttore agricolo non ce la può fare, non ce la farà mai, tenendo presente che siamo anche... Stiamo parlando, per fare un esempio, che in Emilia Romagna nella scorsa campagna abbiamo assistito a una perdita di prodotto pari che va dal 70-80% al 100%, quindi ci rendiamo conto di quello che è successo. Allora vanno fatti e abbiamo chiesto interventi urgenti da fare perché queste aziende possono continuare a investire in questo settore e a produrre, che è quello che sanno fare. E quindi ci sono dei canali che bisogna utilizzare, bisogna andare in Europa, sono previsti questi finanziamenti, quindi bisogna presentare proposte, progetti e lavorare per questo, uscendo dalle logiche del puro schieramento politico. Devo dire che in questo contesto, quando noi affrontiamo queste tematiche, andando a vedere per esempio la Commissione Agricoltura alla Camera, la Commissione Agricoltura al Senato, sono commissioni che generalmente approvano le varie all'unanimità. E questo è un fatto positivo perché dipende da quello che riusciamo a fare e da come ci comportiamo andare a prendere le risorse necessarie per far ripartire e per dare nuova linfa, per dare ossigeno a queste aziende che ne hanno veramente bisogno. Sapete già come verrà poi sfruttata questa somma che è stata stanziata, questi 80 milioni di euro? Come verranno utilizzate? Gli 80 milioni di euro, generalmente quando sono queste somme, vengono indirizzate soprattutto sul versante del sistema bancario, per i crediti, per i contributi e roba, quindi sono tutte queste cose che poi si andranno a vedere, ma ho detto, non è con quelli di 80 milioni che risolviamo il problema, è una boccata di ossigeno per tenere bloccata un pochino la situazione, ma dobbiamo muoverci per affrontare a 360 gradi la questione, perché non è un problema che finisce qui, quindi ci vogliono delle certezze, nel senso che non possiamo andare avanti con gli stregoni, dobbiamo decidere cosa fare, quindi questo è il punto. Ascolti, a inizio febbraio invece è stato chiesto di porre attenzione sulle coltivazioni in Basilicata, che sono state messe a dura prova dopo il gelo dei mesi precedenti, che a loro volta erano stati anticipati anche da mesi di forte siccità, siete riusciti a raggiungere anche in questo caso degli obiettivi concreti? Guardi, noi siamo più che porre la questione in questi termini, credo che il problema è da porre sul versante dei cambiamenti climatici e gli effetti dei cambiamenti climatici, cioè quello che sta succedendo e sempre più succederà nel nostro paese. Noi abbiamo una situazione che è davanti agli occhi di tutti, ci sono momenti di pioggia eccessiva, alluvioni, e ci sono momenti di forte siccità, ci sono momenti di caldo tropicale e di gelate. Il peggio del peggio perché coltivano? Quindi proprio, allora, siamo andati a fare la manifestazione anche lì, come Copagri, insieme ad Agri Insieme, in Basilicata, ci siamo mossi tra la Basilicata e la Puglia perché la situazione bisogna governarla, cioè nel senso, cosa è successo? Lo diceva lei, è successo che abbiamo avuto un inverno, che non è finito, tra l'altro caldo, con temperature altissime, che hanno, quando ci sono temperature altissime, si va verso, si accelera il processo della pianta, le piante vanno verso la germogliazione, quindi dopodiché arriva il freddo, e ammazza tutte le... Interrompe il processo, quindi con il rischio di perdere la produzione, sempre più avremo a che fare con questi fenomeni. Su questo credo che da soli gli agricoltori, i produttori agricoli non possono essere lasciati, cioè non riusciamo a combattere questa situazione da soli. Certo, bisognerà lavorare, e questo è quello che abbiamo chiesto noi, su culture che si adattano a questa, su culture resistenti, ma bisognerà anche legarsi appunto alla scienza, all'assistenza, per capire come intervenire, ad esempio come investire, e vanno sempre più investimenti sul versante, ad esempio dell'agricoltura di precisione, perché io devo sapere come utilizzare ad esempio l'acqua, per evitare che poi in un momento abbiamo degli studi che sono stati fatti, dove si prevede che le culture del sud dell'Europa nei prossimi 50 anni, da qui al 2050, avranno una perdita di prodotto che si aggirerà intorno al 50%, quindi è chiaro che bisognerà andare in altre direzioni e su questo tutti quanti dobbiamo sentirci impegnati, questo vale per le istituzioni, a partire dall'Europa che già sulla PAC 2014-2020 aveva tracciato una linea e sulla prossima PAC credo che si vada avanti sulla stessa direzione, ma lo stesso discorso lo dobbiamo fare a livello nazionale e a livello di regioni, cioè nessuno si può tirare indietro, su questa partita c'è bisogno di fare squadra. La previsione è che appunto entro il 2050 si andrà a registrare nel sud dell'Europa un calo della produzione di circa il 50%, non si può arginare anche in altri modi, non si potrebbero prendere anche dei provvedimenti un po' più drastici, magari con il coinvolgimento di quelle cose che generano maggiore inquinamento, non si può lavorare in quell'ottica secondo lei? L'agricoltura è quella che più dà per combattere l'inquinamento, anche se molti la fanno passare alcune volte come quelli che avvelenano l'ambiente, che cosa di più falso non esiste, perché se andiamo a vedere i dati di quello che fornisce l'agricoltura ci rendiamo conto che non è così, ma poi bisogna anche fare i conti, ma la butto così, nel senso che comunque stiamo andando verso una tropicalizzazione del clima, alcuni produttori l'hanno già capito, se noi andiamo verso il sud Italia e incominciamo a vedere delle culture che da noi non esistevano, esistevano nel Nord Africa, ma si stanno spostando, ma il punto è capire anche come gestire tutto il patrimonio, ad esempio idrico, e qui servono delle politiche agricole e forestali che lavorino anche in questa direzione. E questo è il lavoro che dobbiamo fare per arginare quello che purtroppo sta avvenendo non solo a livello italiano, ma a livello europeo e mondiale. E da questo punto di vista notate avvertito una sensibilità magari da parte del governo, delle istituzioni? Sì, per questo periodo ci riguarderebbe l'acqua? Sì, sì, c'è anche un piano acqua su cui si sta lavorando, è chiaro che adesso dobbiamo vedere, il problema è che se io vado a vedere come sta la situazione oggi e vado a vedere gli invasi, gli invasi sono al 30% della capacità, vuol dire che l'acqua non c'è stata, io ricordo che tanti anni fa ci sono alcune regioni, tipo la Puglia, aveva addirittura, siccome prendevano l'acqua dai pozzi, quindi in ogni terreno c'era un pozzo, quelle acque erano arrivate a prendere addirittura, a incominciare a cacciare fuori, le acque salmastre, le acque salate, che sono quelle che poi ammazza l'agricoltura, dove poi non si può più produrre, perché è impossibile produrre quando il terreno diventa un terreno salato, non c'è vita dove arriva il sale, il sale per il terreno ci mancherebbe. Nelle scorse settimane, ci siamo già avvicinati a questo argomento, nelle scorse settimane Copagri si è interessato molto alla PAC Post 2020, potremmo intanto spiegare a chi è a casa di che cosa stiamo parlando e che tipo di soluzioni vi aspettate in tal senso, cos'è la PAC Post 2020? Allora la PAC è la politica agricola comune, una politica agricola comune che riguarda tutta l'Europa. Su questa politica agricola comune negli anni sono stati sempre stanziati delle risorse importanti per il settore. Tenga presente che poi quando si parla di queste risorse, si parla di risorse che sono importanti per l'agricoltore, perché vanno a far parte del bilancio di quell'azienda. E mano a mano, negli anni, queste risorse sono sempre diminuite. Devo dire che comunque nell'ultima PAC, parlo della 2014-2020, le risorse destinate dalla comunità alla PAC, quindi sempre a livello europeo, ammontavano a 4.008 miliardi. Vale a dire il 38% del bilancio della comunità. Oggi, tenendo presente che la PAC è quella che programma per un'agricoltura sostenibile, è quella che programma per il cibo, per la sicurezza alimentare, per la qualità, quindi tutto quello che alla fine fa l'agricoltore. Oggi c'è più bisogno di risorse. Siamo alla PAC post-2020, che dovrebbe essere la 2021-2027. Siamo in ritardo, perché non c'è accordo a livello comunitario. E si parla oggi, almeno la proposta, l'ultima proposta che è stata messa sul tavolo a livello comunitario, si parla di un taglio di 53,6 miliardi di euro. Quindi con tagli che noi non possiamo accettare, visto che è considerato quello che rappresenta la PAC per il mondo agricolo a livello comunitario, ma soprattutto a livello nazionale. Tagli che abbiamo detto non possiamo accettare. Se noi questi tagli li dobbiamo pagare perché dobbiamo pagare i danni che ci vengono dalla Brexit o i danni che ci sono venuti dagli accordi che sono stati fatti da alcuni paesi sugli aerei, dove noi non c'entriamo niente, noi non siamo disposti a pagare questo. E qui dobbiamo far valere le nostre ragioni. Abbiamo chiesto ai nostri parlamentari europei, che devo dire la verità in questo periodo sono un pochino più attenti, di mettere da parte il teatrino della politica italiana e di lavorare tutti insieme in quel contesto perché è lì che si risolvono i problemi. E si risolvono i problemi confrontandosi con gli altri e non alzandosi e andandosene, perché in quel modo ognuno fa quello che vuole. E siccome noi in questi ultimi anni, anzi da parecchi anni, non riusciamo a fare squadra con gli altri paesi europei, appunto bisogna fare squadra, bisogna fare accordi, se si resta da soli è un danno per l'intera agricoltura italiana e questo va evitato. Quindi abbiamo chiesto ai tutti i parlamentari europei di seguire attentamente tutta la vicenda del budget da destinare alla PAC perché su quella partita non possiamo scherzare. Mi rendo conto dell'importanza dell'argomento, della serietà. Presidente, ci avviamo verso la conclusione. Volevo farle un paio di domande, però non so se riusciremo a toccare entrambi gli argomenti, però vediamo intanto magari se riusciamo ad affrontare il primo. Rimaniamo sul mezzogiorno, fino ad ora abbiamo parlato soprattutto della parte meridionale del nostro paese. All'inizio di quest'anno c'è stato infatti il via libera da parte della conferenza Stato-Regioni per avviare la tanto attesa rigenerazione del territorio salentino che è stato danneggiato in maniera molto grave dalla Xilella. Le chiedo che cosa si sente di dire riguardo questo aspetto? Io voglio ricordare a me stesso che la situazione olivicola è una situazione molto critica, tenendo presente che parliamo di un comparto che per l'economia di queste regioni, ma per l'economia nazionale vale tantissimo, che ha portato nei giorni scorsi a una manifestazione che abbiamo fatto in Calabria, sempre come agri insieme. Ma voglio ricordare a me stesso anche una grande manifestazione che abbiamo fatto a Roma, proprio a febbraio dell'anno scorso, il giorno di San Valentino, il giorno degli ennamorati, gli agricoltori sono venuti qui, erano 6 mila. In piazza Santiaposto. Infatti c'eravamo anche noi. Erano 6 mila che sono venuti in piazza in quell'occasione, anche lì dove chiedevano interventi, non chiedevano aiuti. Abbiamo chiesto interventi, finalmente un segnale è stato dato, importante, 300 milioni, l'abbiamo chiesto e è stato dato, adesso vediamo come utilizzarli. È chiaro, anche lì, risorse non bastano. Perché stiamo parlando di un settore dove le piante interessate sono oltre 10 milioni. Le aziende interessate solo in Puglia, se non erro, non le do i numeri, però stiamo parlando di quasi tutta la totalità, che l'anno scorso non hanno prodotto a causa della chesilella e che non hanno prodotto a causa anche appunto della gelata che c'era stata. Quindi c'è stato, in alcuni casi, la vendita di produzione pare al 100%. E questo, guardate, ha significato che il produttore non ha raccolto. Chi raccoglieva le olive non ha lavorato. Alcuni frantoi che generalmente aprono a ottobre e chiudono a fine marzo, hanno aperto a ottobre e hanno chiuso a inizio novembre. Pochissimi. Quindi è la dimostrazione di quello che è successo. Quindi anche su questo, finalmente si è deciso di attuare quello che deve essere attuato. Ma anche qui bisognerà muoversi nei confronti dell'Europa per andare a trovare quelle risorse necessarie. Ci sono. Bisogna chiederle e saperle chiedere. Ed è questo che dobbiamo fare. Da soli gli agricoltori non ce la possono fare. Per quello che è successo in Puglia, ma che potrebbe succedere anche in altre regioni, perché è un qualcosa che cammina. Quando parliamo della chiesinella cammina, c'è un po' che sa. Speravamo in questa annata. Questa annata c'era stata prospettata come un'annata di buona produzione e di buona qualità. Ahimè, le cose non sono andate avanti. C'è nel senso che la buona produzione e la buona qualità è stata fatta. Ma i prezzi sono al di sotto dei costi di produzione. È un fatto molto strano. E allora anche qui bisogna fare un lavoro di mettere insieme tutte le parti della filiera e soprattutto di un confronto che va fatto con i consumatori. I consumatori chiedono il cibo e sempre più chiedono il cibo salutistico. Oramai è questo il binocchio. E quindi chiedono il cibo sostenibile, chiedono il cibo di qualità, chiedono il cibo made in Italy. Noi tutto questo lo produciamo. Bisogna dire ai consumatori, quindi informandoli, facendo formazione a partire da loro, bisogna dire ai consumatori anche che poi questo prodotto va pagato al giusto prezzo. Non è pensabile andare a comprare una bottiglia di olio a 2,60 euro, 2,80 euro al litro. Che olio è? Da dove arriva? Quindi io invito i consumatori a fare questa riflessione. Secondo voi è possibile pagare più una bottiglia di acqua minerale che una bottiglia d'olio con tutti i lavori che c'è e per quello che rappresenta l'olio anche in termini salutistici. Una bottiglia d'olio dura una settimana, 10 giorni. Una bottiglia d'acqua dura mezz'ora. Riflettiamo, non è lì che bisogna risparmiare. E sulla salute non bisogna mai risparmiare. Argomenti importanti, Presidente. Io la ringrazio tanto. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, però è stata una conversazione molto importante. Siamo riusciti, credo, a toccare temi più caldi, quelli un po' più di stretta attualità. Quindi ringraziamo nuovamente Franco Verrascina, Presidente di Copagli. Grazie ancora. Grazie a voi. Potremmo riprendere il discorso nelle prossime settimane. Magari. Intanto in bocca al lupo perché il lavoro da fare si percepisce che sia tanto. E grazie anche a voi per l'attenzione. Noi ci vediamo, come sempre, la prossima settimana. Vi ricordiamo, in chiusura, di seguirci sui social network. Lo facciamo sempre. Le tre sono infatti su Facebook, Twitter ed Instagram. Seguiteci lì per essere aggiornati rispetto a tutte quelle che sono le nostre attività che riguardano sia l'informazione, sia anche tutto ciò che concerne le produzioni televisive. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.